Betta, ma tu hai mai provato invece le bevande alla soia, per esempio? Soia? No, soia no. Allora, guarda, te la preparo io. Anzi, la prepariamo insieme che... Dai, così mi insegni, va bene. Intanto prendi il nostro bellissimo piatto, il nostro bellissimo bicchiere di presentazione e voilà! Perché ci vuole un bicchiere adatto di presentazione, è importantissimo. Ovviamente ti faccio vedere anche in questo caso come utilizzo il soft. Che lo metti alla base, quindi, anche in questo caso? Sì, in questo caso sì, lo mettiamo solo sotto. Dai, immagino che io nel frattempo ti preparo la bevanda. Brava, grazie, grazie, grazie. Praticamente sto creando delle piccole onde. Bevanda alla soia. Ah, è bella schiumosa. Ma poi ve le insegni queste cose? Dipende. Allora, in pratica facciamo due cerchi e dopo andiamo a fare questo movimento come se fossero dei raggi. L'idea è un sole che esplode. Un sole che esplode. Esattamente. Cioccolatino finale lo vogliamo mettere. È un momento cruciale. Sì. Buonissima. Visto. Davvero, davvero buona. Brava Elsa, complimenti. Brava. Grazie.